Un caro saluto a tutti. Avete sentito bene, non ho detto né tutti né tutte. Ho usato un altro suono. Questo suono ha un nome, si chiama schwa alla tedesca o scheva e è il suono che corrisponde alla vocale media per eccellenza. Sta seduta esattamente nel mezzo del quadrilatero delle vocali, li. Quando io pronuncio tutte le altre vocali ho bisogno di deformare la bocca in qualche modo, a e i o u. Lo schwa sta nel mezzo e si fa con la bocca a riposo, tut. Non è difficile, è lo stesso suono che facciamo quando non sappiamo rispondere a una domanda. Uguale, quello lì, ricordatevelo. Da dove viene e perché mi sono messa a usare questo suono strano? Lo schwa, che è rappresentato da una piccola e capovolta, è di genere maschile intanto, non chiamatelo la schwa perché si offende, è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale o IPA, International Phonetic Alphabet. È un alfabeto molto particolare che i linguisti usano per riuscire a disegnare, a mettere per iscritto, tutti i suoni di tutte le lingue parlate dagli esseri umani al mondo. Quindi un linguista, conoscendo l'IPA, riesce a capire come si pronuncia qualsiasi parola. Quindi è un alfabeto potentissimo se ci pensate. Schwa, il nome, viene dal tedesco, cioè noi usiamo il termine tedesco, e il tedesco lo prende dall'ebraico schwa. In ebraico vuol dire nulla, niente, zero, perché appunto è un suono che si fa con la bocca a riposo. Quando è che è venuto in mente alle persone di usare lo schwa? C'è un problema indemico, per così dire strutturale, della lingua italiana che è come rivolgersi a una moltitudine mista. Normalmente diremmo buonasera a tutte e tutti. Però, da almeno 4-5 anni, di più negli ultimi, si è iniziato a pensare a un'altra questione. Se quella moltitudine mista contiene anche persone non binarie, cioè che non si riconoscono nel binarismo di genere, come faccio? Buonasera a tutte e tutti, o care tutte e cari tutti, non funziona più. E allora, in molti contesti LGBTQA+, collettivi femministi, dove insomma si fa una sperimentazione più attuale, attenta sulla lingua, si è iniziato a usare tutta una serie di simboli, presi dalla tastiera, da quelli che abbiamo a disposizione. L'asterisco, la chiocciola, l'apostrofo, la x, il trattino basso, la barra, la u, caru tutto, ciao a tutto, perfino la y e anche la lettera che è a metà fra la a e la e. Chi ha fatto latino conosce bene. Ma chi sono le identità non binarie? Le identità non binarie sono identità di genere che non corrispondono completamente al genere maschile e al genere femminile. Quindi sono persone che non si riconoscono in nessuno dei due generi. Stiamo parlando di meno dell'1% della popolazione, questo è vero. Però, se noi pensiamo in un'ottica identitaria, nelle quali le parole contano e contano per autodefinirsi, voi capite che questo è un problema. Ci sono delle persone che non sanno che genere usare per riferirsi a se stesse. Se noi adottiamo un'ottica inclusiva, non possiamo escludere dal conto delle persone che ci interessano quell'1% che non si riconosce nei generi. Se noi adottiamo un'ottica inclusiva, non ci sono persone di serie A e persone di serie B. Quindi il fatto che si stia parlando di meno dell'1% della popolazione non ci deve toccare. E però io ho un problema anche con la parola inclusività e non sono l'unica. Perché inclusività da vocabolario vuol dire capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. Però, se ci pensate, inclusività ricrea una differenza, una divergenza, una disuguaglianza fra chi viene incluso e chi include. Cioè ricrea una società normocentrica in cui i normali includono i divergenti. E i divergenti vengono inclusi e soprattutto subiscono l'inclusione. Cioè la parola inclusività toglie agentività ai divergenti. Per questo mio amico studioso di autismo e di inclusività, autistico pure lui, Fabrizio Acanfora, dice perché piuttosto non usiamo convivenza delle differenze. Delle e non con le. Perché delle implica che siamo tutti differenti e che dobbiamo imparare a convivere con le differenze reciproche. E in questa ottica, nella convivenza delle differenze, tutte le diversità contano. Perché appunto tutti siamo differenti. Anche quell'un per cento che non si riconosce nel binarismo di genere. Non siamo i soli che si stanno interrogando su queste cose. Nel mondo ci sono diversi esperimenti di lingua di convivenza delle differenze. In inglese hanno preso da un po' di tempo a usare il singular dei per riferirsi a persone appunto che non sono né he né she. In America latina troverete la x e quindi la tinks. Ma non solo, in spagnolo, in Spagna, viene usata la roba, la chiocciola oppure il plurale in e, todes. Infine lo svedese, certo, una lingua dinamica più giovane, meno storicizzata, ha incluso, ha inventato addirittura un pronome inclusivo nuovo, hen. Perché lo schwa? Allora, intanto si può pronunciare, laddove per esempio l'asterisco no. Non è mai stato usato per nessun genere, mentre al contrario la U in molti dialetti italiani è una marca di maschile, quindi tu, tu, a me sembra un supermaschile. È un suono indistinto per un genere indistinto, anche semanticamente funziona. Poi se voi prendete in mano un testo con lo schwa, vi accorgerete che lo schwa quasi non si nota. Forse è per questo che piace così tanto, forse è per questo che fa così paura. Però un punto a suo favore è anche che è esotico. In qualche modo lo schwa è visto come più hipster rispetto all'asterisco, la barra, la chiocciola e tutto il resto. E allora perché non lo schwa? Beh, intanto è un suono alieno all'inventario fonematico dell'italiano standard, anche se è presente in molti dialetti, soprattutto del sud, del meridione. È difficile da usare perché non c'è su molte tastiere di computer e neanche di cellulari, anche se sui cellulari stanno iniziando a inserirlo fra le opzioni della E. È abilista, questa è la cosa più grave. Crea un problema sia nei confronti dei dislessici, sia nei confronti degli anziani, quindi è anche ageista perché rende tutto più difficile. E poi è invasivo. Stiamo parlando di modificare la morfologia dell'italiano, il modo in cui decliniamo le parole. Non è facile come creare nuovi sostantivi. È qualcosa, la modifica la morfologia, che potrà accadere solo se una gran parte delle persone lo vorrà fare. Eppure, nonostante tutte le difficoltà, le persone stanno usando lo schwa. In editoria c'è una casa editrice che sta stampando i suoi saggi con lo schwa invece del plurale maschile sovraesteso. Nei fumetti abbiamo avuto nel novembre 2020 Sio, alias Simone Albrigi, che aveva fatto un poster per Lucca Comics con lo schwa, Benvenuta, e recentemente l'ha usato anche Zero Calcare in un suo graphic novel uscito su Internazionale. Ogni tanto lo schwa compare nella pubblicità. E infine, una notizia che ha creato grande scandalo, ma anche molto interesse, un'amministrazione locale di Castelfranco Emilia ha deciso di usare lo schwa nelle sue comunicazioni social, solo social ovviamente. Quindi, a chi avesse dei dubbi, niente paura. La lingua non si cambia a tavolino. Non c'è nessuna elite che vuole stravolgere l'italiano, a meno che non crediate anche voi al complotto dei transgender. Spero di no. Nessuno vuole e può imporre nulla. Anche quando ci hanno provato in passato in Italia, le cose sono andate abbastanza a ramengo. Le cose non hanno funzionato. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa meravigliosa. Sperimentazione. La lingua ci permette di sperimentare. Ci permette di cercare le formule che funzionano meglio per noi stessi, per definirci. E io credo che all'interno di una società che vada nella direzione di una convivenza delle differenze, non ci debba essere assolutamente nessuno che non può abitare con agio la propria lingua. Credo che questo rientri fra i diritti di ogni persona. Sentirsi a proprio agio usando la propria lingua. E non svegliarsi la mattina con la sensazione di non so come riferirmi a me stesso. ecco perché lo schwa. Andate fuori, guardate dove lo troverete. È un esperimento, non dovete averne paura. Magari aiuterà le prossime generazioni a trovare una soluzione migliore di questa che, diciamo così, ha soprattutto la valenza di avere evidenziato una questione che prima alla maggior parte delle persone era assolutamente aliena. Grazie. Grazie.